dunque 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 ecco già uno dei motivi per cui dovevamo attendere di venire qua ovviamente avevamo da usare il teletrasporto che facevamo venivamo qua solo per una cesta ovviamente no dunque la caverna di yampi yampi ci siamo venuti come ricorderete tantissimo tantissimo tempo fa e voi vi chiederete che cosa può nascondere un posto del genere bella domanda non me lo ricordo la cosa più logica che ti posso dire è che nasconde sicuramente una di quelle lastre per le vocazioni di sicuro bello bel colpo genna fatto questo ora dobbiamo scegliere in quale porta entrare e già che ci siamo buongiorno ovviamente questo dungeon è un dungeon ovviamente endgame e lo possiamo capire ovviamente prima di tutto mettiamoci sabbia dal fatto che abbiamo dovuto aspettare di ottenere teletrasporto per proseguire ho visto un attimo tremare o sbaglio è stato solo lo schermo vabbè fai scoppiare questo kaboom ecco qua vediamo cosa nascondi più che altro è esatto ci sono talmente tante vie che non ho idea di quale sia giusta e quale sbagliata ad esempio se noi scendiamo di qua dove andiamo ah ok in sostanza c'erano più vie ma che ti portano ok questo è uno shortcut e di sicuro questi si sono spostati tutti ovviamente di nuovo spostiamo questo e anche tu vai via ok ovviamente dobbiamo usare sabbia perché oh no come faccio a passare esattamente come fatto per tutto il resto della mappa dunque è però bella bella grande sta grotta cavolo spero di non perdere nulla oh buongiorno soldato tauro soldato tauro che dobbiamo uccidere con i colpi di vento ho messo garret al posto di genna nell'eventualità che ne appaiono di più di questi tori ah maledizione sempre così sempre così maledetti allora questo lo dobbiamo spostare chissà come dobbiamo fare non sia mai eh non sia mai spostiamolo ecco fatto prima di proseguire vediamo se c'è qualcosa da queste parti esatto ok mimica ma materia nera perfetto tanto con la materia nera bene o male uh buongiorno drago di fuoco aha perfetto anche il draghetto ci serviva perfetto 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 però il draghetto dobbiamo ucciderlo con l'acqua garret tu non hai acqua c'è la ivan c'è la genna se non ricordo male quindi genna te ne occupi tu insieme a sara noi due facciamo fuori questi qua inutili peccato che non abbiamo attacchi oh gesù non abbiamo digin d'attacco con genna maledizione ah beh gel attacca perfetto pensavo che indeboliva e basta dai è ancora vivo come fa dio mio ho capito che sei un drago però cacchio ed ecco qua l'unica che non doveva attaccare ha sconfitto il dragone gecko sale di livello ti prego dammi l'oggetto maledizione ok mi sa che stiamo proseguendo spero solo di non lasciarci indietro troppa roba spero di non lasciare indietro nulla di importante più che altro cioè o meglio roba che possiamo anche recuperare dopo quello intendo ecco qua e ora spostando questo qua in fondo ce lo leviamo spostiamo ancora questi due e spostiamo l'ultimo ecco fatto e via di qua c'è qualcosa ok si c'è lo shortcut e una cesta perfetto ricalcon vedete questo è il premio che ottieni arrivando in un dungeon di una mappa vecchissima ma se te la ricordi ottieni tanti premi buoni abbiamo già ottenuto due dei materiali ovviamente più forti del gioco ma non solo quello perché in questa zona come vi ho detto prima minotauro e quell'altro che dobbiamo ammazzare donano degli oggetti di niente male eh già minotauro bello ti prego la resistenza del mondo di darmi gli oggetti che mi servono e col cacchio che mi ascolta il gioco posso passare di qui perfetto più che altro sto cer- oh è un digi in quello? probabile iniziamo a spostare questo di qua ok e ora noi per scendere dobbiamo probabilmente farci tutto il giro all'inverso di nuovo minchia sarà se l'è se l'è assorbito con un colpo ok siamo risaliti perfetto ora dobbiamo rifarci tutto il percorso per andare dall'altra parte qui era dove eravamo poco fa perfetto e dobbiamo aspetta mettiamo pala appena appare qui fermo lì che bello ti ho già trovato vieni con noi bello dunque 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 tu quale digi in di terra sarai? sei il penultimo digi in che ci mancava quindi devi essere sicuramente buono vediamo secondo me è un effetto di stato no 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 deve per forza fare un attacco per forza prisma 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 rida ps c'ero vicino e se lo attiviamo lei diventa di nuovo barbara diamolo a ivan per il momento che non ci perde nulla perfetto ce ne manca solo uno ce ne manca solo uno ci manca l'ultimo d'acqua perfetto diamo una martellata qui che così possiamo passare dopo aver preso il digi in e siamo tutti contenti allora 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 anche questo è uno shortcut giusto? o comunque ci permetterà di proseguire ecco fatto il problema è da dove dobbiamo passare dobbiamo rifarci il giro probabilmente da queste parti aspetta un attimo questo non l'avevo visto è una feature così tanto dimenticata la roba sepolta che cosa sei? mitril ah che bello è una feature così tanto dimenticata e dimenticabile dunque tu bel draghetto invece sei da colpire con l'acqua giusto? spero che anche la psi energia valga come colpire e uccidere ok di qua possiamo proseguire e anche da questo lato possiamo avanzare stanza boss fight che bello ah fantastico credo che ce la possiamo fare sono il custode del fuoco se vuoi ottenere il mio potere dimostrami quanto vali vieni pure valucar effettivamente sembri un bel demonozzo cattivo cattivo quindi grande impattiamoci si tu attacca tu puoi fare qualcosa direi di no quindi giusto per sicurezza aumentiamoci anche la difesa ecco qua che sfiga neanche un colpo critico davvero ragazzi ah pensa un po' aspetta un attimo ma era il mio venere o ne ha usato no aspetta pezzo di merda ha usato il mio digin e quindi qua andiamo a botte per forza allora il punto è dobbiamo un attimo risollevare lui quindi tu genna tesoro ripristina geco ecco qua non ne avevamo bisogno in realtà di curarci ma giusto per stare pezzo di merda mi ero mai digin e mi riusa anche un pezzo di merda lui e allora dobbiamo essere guarda quanti ne ha tirati giù allora aspetta l'ha usato il mio legna e la sua rugiada tu questo tu evochi che così aumentiamo ancora di più l'attacco e tu attacca grande impatto che così anche l'evocazione la usiamo più potente eh 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 mica siamo scemi qui eh che tra l'altro queste evocazioni non le usavamo effettivamente da un po' eh vuoi davvero usare i miei digin contro di me bello? fai pure però sappi che posso usarli anche io se tu me li sprechi coglione del cazzo store di digin a roma in stand by oh ma pezzo di merda eh eh perfetto meno male che non mi ha paralizzato vediamo molag di nuovo megera beh si può fare si può fare questo qua sta puntando sicuramente a usare i nostri digin contro di noi anzi le evocazioni più forti contro di noi quindi se usiamo fuoco e vento possiamo fare ancora una volta megera ci rimangono acqua e terra ok facciamo così allora facciamo che tu evochi ram sete tu evochi megera tu attacchi ed infine tu nereide perché col cazzo che te le faccio usare a te piuttosto me le uso io eh che cavolo ci aumenterà le statistiche o siamo già al massimo no ancora avevamo margine di aumentare perfetto ram sete credo che non l'avevamo mai usato ancora è così eh sembra quasi un nemico di megaman vai 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 stordiscimi pure digin poi te li uso a te sei tu che perdi turni poi cojone nereide credo che l'avevamo già usato tra l'altro uh beh pensavo molto peggio dai quale digin mi avrà stordito tutti quelli di vento maledizione allora facciamo così progne lo usiamo noi tu ci curi tu attacchi tu attacchi madonna mia ti spacco come guidate in faccia ti spacco la faccia in due anche questo no questo l'avevamo usato sai che ti stai condannando da solo ed è la cosa molto divertente uh che culo oh no ci ha paralizzato che sfiga allora quali digin ha messo fuori gioco acqua e vento possiamo usare nettuno allora nettuniamo cerchiamo anche di andare di megido e tu tesoro bello non puoi fare nulla perché ti ha tolto tutto vero fuck allora calmi un attimo se lei usa tutti e tre quelli d'acqua ci rimane solo il vento facciamo così allora usali tu che così ti aumenti le statistiche e tu laddove è possibile a sto punto prova a mettercolpare va che è da un po' che non lo facevamo il mettercolpo ah nettuno non l'avevo fatto vedere ancora è vero non l'avevo ancora fatto vedere bello atalanta comunque però se non ricordo male era diversa l'animazione nel primo credo fosse diversa madonna mia mettercolpo non lo usavamo da un sacco e che palle eh devo vedere chi ha ripristina ora uh perfetto perfetto allora cambia un attimo ce l'ha Pierce attacca attacca e tu ripristina lei dai quanto ti manca per creparci oh sta andando è l'amichetto qui eh eh no è Pierce che palle vabbè hai fatto il tuo dovere hai fatto più del tuo dovere credimi sei stato grandissimo uff ok posso switcharlo perfetto vai di nuovo Sara e proviamo a meghidare di nuovo tu super saluta tu attacca e a te dobbiamo aspettare che si ricarica Eddie attacca sperando sempre in un critico oh ma ancora resisti eh è fantastico fantastico andata e l'evocazione che otteniamo eh dedalo 4 di fuoco e 3 di terra proviamolo subito tra l'altro dobbiamo ancora combattere il minotauro cattivone però figa non appare proviamo dedalo voi paratevi vediamo ah è il castello armato volante si certo e l'ultimo colpo arriva dopo sicuramente arriva dopo aia pezzo di merda allora facciamo così proviamo a lasciare un attimo da parte ci pariamo tutti quanti tu curaci vediamo se arriva il missile al turno dopo arriva eh certo speravo un pelino di più però perfetto e ora dobbiamo solamente riuscire a far apparire il drago e il minotauro grazie a tutti